I Carabinieri di Ciriè in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell'ambito di un'attività preventiva nel settore dello sfruttamento dei lavoratori in nero e della contraffazione hanno scoperto un laboratorio cinese clandestino di abbigliamento. I lavoratori lavoravano di giorno e di notte, emerso che nel locale lavoravano clandestinamente e dimoravano alcuni cittadini cinesi. In particolare il laboratorio al cui interno erano accatastati i tessuti e i capi di abbigliamento era dotato di postazioni con macchine da cucito professionali. Nel locale sono state trovate 10 cinesi, il titolare e 9 lavoranti senza un contratto di lavoro, di cui un clandestino, a fianco al laboratorio un dormitorio. Il titolare del laboratorio è stato arrestato per sfruttamento del lavoro nero e sanzionato per violazione a quest'obbligo per oltre 32.000 euro. Il laboratorio clandestino di abbigliamento è stato sottoposto a sequestro. A seguito del controllo è stata sospesa la licenza al titolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.